Se alla fine del campionato scorso, con la vittoria finale del Gela, con tanto di salto di categoria in Serie D, ci avessero detto che sarebbero arrivati dopo soli tre mesi guai seri, non ci avremmo assolutamente creduto. Tanta era l'euforia, la gioia per quanto conquistato, che tutto passava in secondo piano e a chi sosteneva che si sarebbero presentate nubi cariche all'orizzonte non avremmo dato ascolto. Proprio al termine della partita vinta col Cusso Palermo, era il 17 aprile, il patrono biancazzurro, Angelo Tuccio, aveva lanciato un appello a tutti, rimasto inascoltato. Risentiamo cosa disse ai nostri microfoni Tuccio. Per dire la nostra su alcune cose che non vanno come giusto che sia, per dire la nostra su quello che ci vuole per migliorare le strutture sportive e tutto ciò che ruota attorno al calcio in questa città, perché è chiaro che vogliamo andare avanti, tutto questo non può che crescere, non può che migliorare. Come ho detto io ritengo che il gelacalcio e il calcio debbano rappresentare una punta di diamante per questa città. Tutto il resto si deve fare, si deve ricostruire. Non dimentichiamo che abbiamo vissuto e stiamo vivendo gli anni peggiori della nostra storia. Noi vogliamo essere la nota positiva, appunto quella punta di diamante che trascina il resto verso lì di migliori se è possibile. Quanto dichiarato da Tuccio doveva essere da sprone per tutti e invece, da allora ad oggi di acqua sotto i ponti ne è passate tanta, ma la conclusione è amarissima. Tuccio si è dimesso dalla carica di presidente e la società è in vendita. I lavori al campo sportivo Vincenzo Presti non sono cominciati e una parte della politica non vuole che l'impianto sportivo di Contrada Giardinelli, così come votato dal Consiglio Comunale su proposta del consigliere di Forza Italia, Salvatore Scerra, venga gestito proprio dal gelacalcio. Un calderone di problemi che è già esploso. Oggi pomeriggio il tecnico Totò Bruccoleri, il direttore sportivo Giovanni Martello e i giocatori Maurizio Nassi e Alessandro Bonaffini terranno una conferenza stampa e dall'incontro con i giornalisti si avrà un quadro chiaro su cosa potrà accadere da subito. La squadra è ritornata in città dopo il ritiro per il campionato a Zafferano e Tenea e ha fatto tappa a gela con il cuore in gola, perché nessuno mai poteva immaginare quello che purtroppo sta accadendo. Numerosi attestati di stima rivolti al patron Tuccio hanno preso carte penna a tifosi e amministrazione comunale, ma nonostante tutto, come dicevamo, la vicenda è assolutamente precaria. Si rischia realmente di cancellare quello che di buono è stato creato, altro che sistema, quel sistema tanto decantato da Tuccio e che a gela non trova terreno fertile.